ciao ragazze benvenute o bentornate nel mio canale rieccoci di nuovo insieme con la seconda parte del video all tutta tutta make up posa e come avevo anticipato nel video precedente sarà tutta inerente a sephora tra l'altro due cose da dire due premesse super veloci inerente a sephora e non faccio tutta un erba un fascio ovviamente non credo non voglio sperare che non sia non siano tutti gli store così però lo store del centro campagna a caserta lo store è veramente devo dire pessimo non non mi piacciono comunque gli stand come sono messi i prodotti sono sporchi andate a toccarli vi sporcate le mani sono super aperti sono rotti so che comunque questo è anche causa nostra che compriamo e spesso rompiamo purtroppo ai miei però anche gli stand vedo veramente vuoti non mi viene voglia di acquistarli di acquistare in store vi dico la verità su certe cose o tanti colori mancano e non sono disposti prodotti per bene sugli scaffali ecco per cui mi passa un pochino la voglia per questo acquisto di più online e però invece una cosa positiva che voglio dire di quello store è che le persone che ci lavorano sono veramente super gentili super disponibili almeno personalmente a me mi danno sempre tanti campioncini e sono veramente persone squisite niente detto questo tanto so che sefora non mi non mi ascolterà mai non ascolterà mai un canale così piccolo come il mio però comunque volevo ecco dire una piccola premessa volevo comunque dirvi la mia a riguardo che spesso comunque gli store sono ecco non sono tanto studiati per bene tra virgolette secondo me dovrebbero un pochino un attimino migliorare lo store perché comunque le qualità ci sono tutte essendo una profumeria di altissimo livello ecco mi aspetto degli stand strapieni e anche perfetti niente detto questo partiamo subitissimo con con il video in prima prova vi ricordo di scrivere il canale ti mando la campanella lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e commentatemi scrivetemi anche voi se avete avuto un'esperienza del genere se anche gli store domandate voi sono così e niente scrivetemi qualsiasi cosa e vi rispondo come sempre niente detto questo let's go ok ragazzi vi mostro i prodotti in basse all'ordine di acquisto allora e come dicevo il primo questo qui mi sono recata in negozio e non ho trovato ecco chissà che di cose che mi ispiravano proprio per la questione scaffali comunque cose mancanti e ho preso un po di mini size che si trovano nel negli stand comunque vicino alle casse ho preso questo si pop però non vi faccio gli swatch perché già sono tipo a tre minuti e queste no questo video verrà lunghissimo comunque tutti i prodotti li vedrete prima o poi nei video top e flop questa c'è la mini size io ho anche l'altro che adesso mi sfugge il nome ho preso questa cipria di too faced la peach perfect che l'hanno l'hanno utilizzata tutte l'hanno testata tutte tranne me poi ho preso questa mini size del famoso stick contorno occhi di milk questo qui e poi un altro prodotto che non lo trovavo mai in online e quindi ho preso l'ho preso subito appena l'ho visto e del far sali questo è il unicorn essence proprio il primissimo uscito e anche questa è una mini size ovviamente poi ho preso il lip gloss fenty nella full size il colore questo qui il primissimo uscito se non erro è il fenty glow e questo è il lip gloss è veramente un colore cioccolato molto molto bello poi sempre vicino alla cassa cioè gli stand vicino alla cassa ho trovato questa mini palette viso di tart e di tart a parte una palette occhi non ho nulla non ho provato proprio nulla e quindi mi entusiasmata e l'ho presa la palette si presenta così proprio una mini palette devo dire proprio che va in una mano perfetta per i viaggi anche un piccolo specchietto e questi queste sono le cialde c'è un illuminante un blush e una terra fredda per il contouring questa la posso anche buttare e non vedo l'ora anche questa di provarla adesso arriviamo al prezzo forte cioè lei la sunset palette di natasha denona adesso ve la faccio vedere la palette si presenta così come il pack secondario in oro questi qui sono i colori molto molto bella comunque credo che avrete già visto modo avete già avuto modo di vederla qui sul web e questo è un po la palette della discordia come dico perché c'è stato un episodio inerente a questa palette io questa qui l'ho presa in store a prezzo pieno perché non era ancora scontata poi invece dopo qualche settimana comunque nel periodo estivo sito l'avevano messa in sconto adesso però non ricordo esattamente tipo 90 da 110 tipo 90 euro e e io come una rinco ecco fatto quell'ordine di notte per poi dopo rendermi conto a cose fatte che io questa qui in realtà già ce l'avevo e quindi mi sarebbero arrivate due palette uguali per cui ho contattato il servizio clienti di sephora e mi è stato detto che potevo fare il reso sia tramite le poste che recarmi in store e quindi ovviamente per non perdere tempo ho deciso da subito di andare in store e anche qui vi dico che quello store è veramente ottimo per le persone che ci lavorano perché nonostante il covid comunque mi hanno detto che non si può più fare comunque il reso in store per via del covid per me hanno chiuso un occhio e sì abbiamo perso tre quarti d'ora tutti e però sono stati veramente super gentili perché mi hanno hanno fatto sì che io potessi cambiare la palette e al suo posto ho preso altre cosine che vedrete dopo ho messo solo una piccola differenza e ecco però ho risolto mi hanno risolto tra virgolette questo problemino poi sephora in quel periodo aveva la promozione che se aggiungevate insomma un euro al vostro haul e vostri acquisti vi portavate a casa un prodotto a scelta tra quelli che loro avevano vicino in cassa e io ho scelto questa crema di dottor giart non ho mai provato nulla di questo brand e vedremo insieme in un top e flop come sarà poi come campioncini mi hanno dato questi di garlen di questa linea qui una è una crema giorno e un altro è un siero poi mi hanno dato due creme viso di dior uguali identiche poi quest'altro campioncino credo sia le rose comunque c'è questo fiore di questa linea qui dior prestige che sono proprio effetto caviale sono stra curiosa di partì di utilizzare perché sono veramente particolari non mi ha usato nulla del genere e per finire questa mega bag shopper bag in tessuto che però non riesco a farvela vedere tutta poi altro haul fatto sempre in estate e ho saputo tramite un gruppo famosissimo di facebook nel rental makeup che non posso far nomi comunque super famoso e quindi sul quel gruppo ho saputo che una famosissima palette l'hanno messa in sconto da 65 euro a 48 e quindi me ne sono subito approfittata sul sito infatti questo haul l'ho fatto online la palette in questione è lei la huda beauty mercury retrograde e questa qui ecco sinceramente inizialmente ho ovviamente intenzione di schipparla di non prenderla e poi ecco vederla in sconto mi ha fatto cambiare idea e devo dire che dal vivo è veramente stra bella a parte il pack esterno che mi è sempre piaciuta c'è stra bella ma anche i colori dicevo anche i colori c'è sono una meraviglia soprattutto questi qui sopra mi attirano tantissimo sono tra i colori più particolari della palette e niente non vedo l'ora ora che ce l'ho tra le mie mani non vedo l'ora di testarla poi per 30 euro mi sono portata a casa questo mini kit di rossetti liquidi della collezione new nude sempre di huda beauty io avevo preso anche la palette e questi sono i colori tutti ovviamente sui toni nude neutri sia caldi che freddi poi una mini size che sono stata contenta di trovare è il famosissimo lolita di cat von d questa è una mini size la trovavo sempre sold out non la trovo mai sul sito e finalmente l'ho trovata e l'ho presa poi ho preso questa mini palette di anastasia beverly else la mini pro pigment palette volume 2 troppo lunghi questi nomi e la palette è questa qui identica allo scatolo dietro è totalmente nera con i nomi tra piccolette degli ombretti questo è lo specchietto e i colori sono questi cioè sono meravigliosi questa qui l'ho presa soprattutto per i tre verdi che mi hanno ricordata tantissimo la subculture che io purtroppo non sono riuscita a prendere e quindi questi tre colori mi ricordano un po l'autunno poi ci sono anche gialli gli arancioni comunque perfetta anche da per la stagione estiva ma comunque l'ho presa soprattutto per i verdi poi super sconto c'era questo mini set di fenty con l'eyeliner in mini size credo e il rossetto liquido rosso super famoso anche lui in mini size perfetto questo direi anche per come regalo molto molto bello e per finire questo haul in bellezza ho preso lei la mega palettona di norvina questa qui è con i toni caldi e questa è la non so se riuscite a leggere comunque la pro pigment va palette volume 3 ecco ora potete leggere e la paletta ovviamente la paletta la palette è ovviamente uguale al pack secondario questi qui sono tutti tutti i colori presenti nel palette faccio una mini ecco per far vedere bene e questa qui appena l'ho vista sul sito anche a prezzo pieno perché questa qui non la scontano mai l'ho presa io anche quella dei toni blu avete visto in un vecchio haul quella purtroppo viola non sono riuscita a prenderla e per cui questa qui appena l'ho vista sul sito l'ho subito messa in carrello e come campioncini ho scelto questo siero al collagene di face d e questo gel idratante di mercy handy adesso arriviamo al terzo e penultimo haul sephora e l'ho che ho cambiato con la palette e quindi ho restituito la palette e mi sono presa questa palette illuminanti di anastasia beverly hills nella colorazione sugar questi sono i nomi dei quattro illuminanti e le cialde al suo interno si presentano così devo dire che questa è abbastanza scuretta per me la devo provare forse se è scura per me la utilizzerò magari come ombretto vedremo poi dopo tanto tempo ho riacquistato too faced questa è la nuovissima palette born this way con tutti i colori naturali e nude e al suo interno esce come al solito questo libricino con vari tutorial e la palette è questa qui con tutti i toni appunto neutri, rosati, caldi ci sono anche stavolta ombretti glitterati quindi luminosi e questa ne parlano bene tantissime persone e l'ho voluta prendere poi ho preso altri due rossetti di huda beauty che io li stra amo ve li ho anche promossi in top e flop ho preso queste due colorazioni questo è lo swatch di graduation day che non mette a fuoco vabbè scusate la mia mano super secca mentre quest'altro è lo swatch di hunter view che manco questo mette a fuoco vabbè hunter view poi sefora aveva sempre l'offerta che vi ho detto prima con l'aggiunta di un euro vi portavate a casa un prodotto è vero sì che questo colore ecco non è per niente delle mie corde è veramente un colore sì particolare ma anche troppo troppo scuro per me però comunque per un euro dai ci stava e l'ho preso poi con quei difenti il pack è anche molto molto carino mi piacciono i pack difenti sono particolari il colore ovviamente è questo non so se ci uscirei mai con questo rossetto è proprio un blu un blu scuro, blu notte però l'ho preso giusto per testare la formula Fenty e inoltre mi hanno riempita di campioncini mi hanno dato queste due trattamento idratante di Glam Glow una maschera viso di Origins un campioncino del fondotinta Chanel nella colorazione B30 credo che sia un po' scuretta però per me e infine e infine due campioncini identici del Dior backstage nella colorazione 2N forse anche questa è un po' scuretta però rispetto a quello Chanel potrei ancora ancora metterlo e finalmente arriviamo all'ultimissimo haul di Sephora ve lo prometto poi non vi scoccerò più e nell'ultimo periodo Sephora ha messo nei primissimi giorni di ottobre mi pare tipo fino al 4 ottobre dall'1 fino al 4 è durata per pochissimi giorni comunque ha messo questa promo del 20% sui prodotti occhi su tutti i prodotti occhi e sopracciglia per cui mi sono approfittata e ho preso il serial liner di Nabla il famosissimo eyeliner di Nabla e sì sto iniziando a fare qualche backup di eyeliner per testarne quanto è più possibile e ho preso anche il mini size del roller liner sempre sempre un eyeliner di Benefit che comunque ho pagato veramente pochissimo e approfittando della promo ho preso anche l'ultimissima palette di Too Faced la Pumpkin Spice che comunque rientrava nella promo poi comunque Too Faced è un brand che rientra in tutti in tutte le promo che fa Sephora è sempre un brand scontabile come anche Urban Decay e quindi anziché pagarla 50 euro l'ho pagata una decina di euro in meno che cioè ottimo praticamente e questa è la palette si presenta così con questi colori molto molto particolari mi piace tantissimo questo anche questi qui centrali molto molto cute e infine approfittando del super sconto ho preso anche lei un'altra palette di Too Faced la Chocolate Gold questa qui è in gamma già da anni sinceramente però io non l'ho mai presa non so non mi ispirava mai più di tanto però adesso la mette in super sconto tipo da 50 euro a 28 euro l'ho pagata veramente pochissimo e quindi per questo me ne sono approfittata e l'ho presa la palette si presenta così come il pack secondario e tantissimi ne parlano stra bene di questa palette soprattutto per i suoi glitter all'interno non tanto per i matt ma proprio per questi glitter qui e infine già che c'era a fare l'ordine ho preso due novità che volevo assolutamente provare e mi ispiravano tanto tra cui questa palette nuovissima di Huda Beauty della collezione Hades io l'ho presa però né la colorazione kaki che quella verde la palette all'interno si presenta così veramente stra particolare soprattutto ovviamente per questo colore al centro spero che scriva bene perché sarà alla vita questo colore e di questa collezione non credo che prenderò le altre due perché mi sembra un po' rifacimento già di vecchie palette Huda questa era quella secondo me più particolare quella da avere e per finire ho preso questo kit di Fenty di Lip Gloss sono mini size che questi gloss che mi ispiravano tantissimissimo e non li ho aperti proprio per farvelo vedere con il suo pack quindi solo per voi non li ho ancora proprio mai aperti e testati questi sono gli swatch al volo che ho fatto dei mini Lip Gloss devo dire molto molto belli mentre questo qui è lo swatch del Fenty Fenty Glow questo qui che ho preso in full size devo dire che però questo qui e questo qui ultimo dei mini sono abbastanza simili le differenze sono veramente minime e infine come campioncini mi ha dato questi due profumi che io in realtà non avevo richiesto avevo richiesto due due campioncini di skin care per provare quando c'è skin care prendo sempre skin care come campioncini però evidentemente forse non erano più disponibili e loro hanno fatto di testa loro mandandomi questi due campioncini tra l'altro uguale è un'acqua per la notte quindi vabbè night è un'acqua e un profumo da notte non so di Chanel prima di andare a dormire che tra l'altro ho già provato mezza volta e non mi piacciono nemmeno quindi le andrò sicuramente a regalare bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto questo è stato tutto tutto il mio make up haul Sephora adesso metto tutto a posto perché c'è un macello qui sopra anche sul letto non vi lascio immaginare niente io vi mando un bacio al volo ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao